Buongiorno, non so se sarà un vlog, un ciaccolamento in macchina, non lo so, avevo voglia di ciaccolare, sono in anticipo di ben mezz'ora rispetto al mio appuntamento, non vado al bar a bere il caffè perché non ne ho voglia, l'ho bevuto a casa per colazione dopo il porridge, c'è un tempo infame come si può vedere e quindi ho detto sai che c'è, ottimizziamo, ci accogliamo così, diciamo buttiamo fuori i discorsi che alle mie ragazze piacciono sempre, stamattina per coprire le occhiaie che mi contraddistinguono in questi giorni, c'è voluto e non sono neanche riuscita così bene, ho un occhio che non so se è un pelucco o non lo so, avevo fatto così un bel lavoro di make up per coprire questa brutta faccia di stamattina, cosa dite? C'è questa settimana veramente meglio che io non la descriva perché potrei dire veramente cose molto volgari, però sappiamo bene che in questi momenti bisogna agire e non stare troppo a riflettere anche se la situa questa settimana non ci piace molto, ho ancora anche un po' di dentifricio, perfetto, cioè questo ciaccolamento in macchina sotto la pioggia proprio al top, questo make up l'ho fatto pregando che venisse qualcosa di decente più o meno, ho delle occhiaie fototoniche, sto dormendo poco e male perenne cose che non vi vengo di sicuro a disquisire, ma sicuramente anche per problematiche di vicinato allucinante, a me hanno insegnato a rispettare le persone, evidentemente altre persone non sono state educate in questo modo, però pesante pesante, stamattina mi sarei dovuta allenare prima di cominciare la mia giornata di lavoro, ma francamente visto che per due ore stanotte c'è stato un caos e limitiamoci a dire caos allucinante, francamente alle 6-20, 5-30, 6-20 non c'ero fatta ad alzarmi, ero esausta e io quando vedo questa cosa la monitoro in relazione alle occhiaie che mi ritrovo, sapete che nella zona perioculare io comunque sono sempre molto attenta, idrato eccetera, cioè vi basti, che se mi seguite lo sapete, io tendenzialmente mi spiaccico sui patch quando mi preparo eccetera, non vi dico niente di nuovo. Nella maggior parte dei casi il fatto di mettere i patch mi rimette un attimo al mondo, quelli di Primark alla caffeina, tanto amore, come dire, oggi neanche quelli hanno fatto qualcosina, però il livello di stanchezza che vedevo dalle occhiaie non è stato abbastanza aiutato dai patch occhi, quindi immaginatevi, io lo percepisco da questo. E quindi insomma non sono riuscita ad allenarmi, vediamo stasera, anche se il tempo non so se riuscirò a fare il workout corsa, magari faccio l'home workout che è un po' che non faccio, così magari mi muovo anche tutta e distendo un attimino i pensieri, per così dire. Non mi vergogno a dirlo, questa settimana un po' pesante, pesante sotto molteplici punti di vista, non c'è niente di facile per nessuno per carità, però ci sono se vogliamo settimane migliori e settimane peggiori, non è che chissà del tipo ho scoperto l'acqua calda, no, però io mi rendo conto a seconda poi di come va la giornata, di com'è la settimana, non so se mi sono fatta capire, no, e quindi cerco di trovare gli aspetti per così dire positivi eccetera, però quando vedo il solco delle occhiaie che ho e ho determinati fastidi fisici, cioè io mi rendo conto che il picco di stress o comunque di pensieri non positivi è alle stelle, perché poi io sono una persona che somatizza, purtroppo, perché questo credo che sia effettivamente un gran difetto e quindi insomma un po' così, tra l'altro sono arrivata un attimino in anticipo dal cliente, volevo fare una commissione ma diluvia, farò una commissione più nel cuore e nella mente e quindi insomma tutta una serie di cose un po' così, questo makeup mi piace però coprire le occhiaie ripeto stamattina è stato è stata un'impresa ardua, più o meno ci siamo riusciti, ho fatto un makeup con la tinta labbra di Kat Von D quella molto scura marrone che vi ho fatto anche un get ready, ho fatto proprio eyeliner, bronzer sfumato nella piega per dare un po' di profondità, ho sulle labbra Meyer di MAC, i rossetti di MAC io ne ho un po', però diciamo che non li sto più considerando come dovrebbero, diciamo, siamo onesti, sì io oggi ho Meyer di MAC, ne ho un pochettino, vedete questo qui è uno di di quelli che ho utilizzato di più, tra l'altro essendo anche un colore nude sta bene con un sacco di makeup, non mi piacciono tutti i MAC che ho, però quelli che ho soprattutto Russian Red che era proprio qualche tempo fa, diciamo tempo, per non farci venire più stati ansiogeni di quelli che già abbiamo in questa settimana, dicevo che qualche tempo fa Russian Red era uno che se non avevi Russian Red non eri nessuno, poi ho preso il primer di MAC per preparare le labbra, perché questi comunque al di là di Meyer che devo dire scorre bene, ho anche Velvet Teddy che diciamo che sono le due versioni di MAC nude, uno un po' più marroncino, l'altro questo un po' più rosato che scorrono un po' meglio, gli altri alcuni sono veramente rossetti stagni, no? Mi piacere stagni nel senso che farli scorrere, cioè io quando dico rossetto stagno che si fa proprio fatica a farlo performare al meglio sulle labbra e infatti mi ricordo che presi il prep and prime di MAC proprio per questo motivo, ma francamente non li ho più considerati perché non li trovo performanti, ma più che performanti pratici, perché sapete che io ho cambiato trossettina da emergenza borsetta, che questa faceva parte di un kit di Barbie di Primark che vi avevo fatto anche vedere, domenica ho fatto un po' di ordine, ho detto questo è un po' più comodo con tutte le cosucce di emergenza giornaliera, per così dire, e i rossetti di MAC sono rossetti che, come dire, scorrono bene questi qui nude, gli altri sono un po' più complessi, mi piacerebbe dare un po' più lustro ad esempio al rosso Russian Red, poi ne ho uno che andrà bene con la prossima stagione ma tarda, dico ma al di là del colore ce ne sono alcuni veramente stagni che per farlo scorrere bene devi idratare bene sotto, ma se idrati troppo non performa bene perché sostanzialmente il burro di cacao, perché il prep and prime è come se fosse un burro di cacao, praticamente te lo fa spandere ovunque, non so se si dica così in italiano ma credo di essermi fatta capire, quindi insomma MAC è un po' è stato un po' un amore odio, nel senso che alcune cose mi piacciono, altre non mi sono piaciute, il mascara che avevo provato era un'arma a doppio taglio e mi ricordo perfettamente di avervelo bocciato perché se per disgrazia ti finiva un po' nell'occhio potevi praticamente fare il segno della croce, performante sì ma di una difficoltà d'uso che non vi dico e l'avevo comunque provato, questi due rossetti qui sono gli unici che bene o male, adesso vorrei ridare a loro un po' di lustro anche perché francamente non mi ricordo il tempo di essermi preso un rossetto nuovo e la cosa non è che mi dispiaccia, per esempio ci ho fatto uno che ne ho due, comunque non ho visto nulla di così eclatante, salvo qualcosina ma nulla di che, ci sono dei come dire dei best che io mi porto dietro che sapete perfettamente come tinte labbra, le super stay matink, c'è qualcosa di wicon, insomma sapete se mi seguite che ho delle punte di diamante, però a onor del vero devo dire che non ho visto qualcosa che mi fa dire mamma mia devo averlo, al contrario, al contrario del mascara che è uscito il mascara blu, il toy boy blu, prime mascara blu che si può usare come primer, come mascara blu, come mascara rinforzante ciglia prima di andare a letto, cioè questo è quello che io ho capito da alcune primissime recensioni di alcune ragazze che seguo, quello francamente devo essere onesta, mi incuriosisce molto, infatti ho guarducchiato un po' su internet dove costa meno, mi piacerebbe prenderlo perché francamente mi ispira un sacco, sarà che io adoro il blu ma soprattutto il blu elettrico e il pack mi piace, il colore tantissimo, certo questo mascara ha sempre generato un po' di doppi pensieri che è inutile che le disegniamo, nel senso che ne disegniamo, ne disegniamo, ne parliamo eccetera perché ci siamo capiti, però francamente mi incuriosisce molto, ma mi incuriosisce anche il fatto che può essere utilizzato per più cose, a differenza ad esempio di un classico mascara che sappiamo appunto qual è l'uso principale. Nel corso del tempo, e credo che io avessi già al canale, io avevo utilizzato il Toy Boy, il nero classico, quello però nel pack rosso, io non ho mai preso il Toy Boy rosa e francamente questo è l'ultimo, io vorrei trovare una bella offerta, perché tanto comunque i mascara li uso, riprendere il rosso perché è tantissimo che non lo uso e per quanto io abbia dei buoni ricordi, è comunque tanto che non lo uso, francamente non mi ricordo se ci avevo dedicato una beauty recensione o meno, magari potrei anche curiosare sul canale, ma magari chi è più fedele di me al mio canale può ricordarselo, al di là delle battute, francamente è passato tantissimo. Poi Diego della Palma, se vogliamo, un po' perché comunque non è prettamente a buon mercato, un po' perché comunque ci sono tante, quante volte ho detto comunque, controlliamo l'ora, sono ancora in orario, dicevo, è comunque un brand che difficilmente si trova facilmente, cioè Caddi, Stigota eccetera, quindi magari non ti viene neanche l'occasione, è più online o salvo qualche profumeria specifica, quindi se vogliamo da tutti questi punti di vista è andato un po', come dire, in cavalleria, però gli ultimi che vedo mi incuriosiscono, soprattutto sezione mascara, che sappiamo essere comunque un aspetto fondamentale del makeup, perché il mascara apre lo sguardo, insomma fa un sacco di cose e ripeto, mi piacerebbe sicuramente provare questo blu, fatemi sapere se avete già colpito con questo danno, con questo acquisto, è nuovissimo perché credo che sia uscito una settimana, dieci giorni, quelli che sono, e magari fatemi sapere se vi può interessare un confronto tra lo storico mascara nel pack rosso, quello un po' meno vintage nel pack rosa, che ripeto io non ho mai preso, perché comunque a costicchia voglio cercare chiaramente delle belle offertine, magari se c'è nel pack insieme, non lo so, perché ci sono alcune profumerie online che fanno anche lo scatolino, magari guardo se c'è la mini size di entrambi, non lo so, devo indagare, perché francamente questa cosa mi incuriosisce parecchio, quello blu, e mi piace l'idea di provare insieme il mascara con il primer, di usare quello lì blu solo come mascara blu con i miei trucchi blu, insomma questo, vedete già il fatto di aver avuto questo quarto d'ora prima di entrare dal cliente, di chiacchierare un po', mi ha un po' disteso tutti i vari pensieri nebbiosi all'inizio di questo video, è un po' anche come uno sfogo tra virgolette in compagnia, per quanto comunque magari quando si scrive il diario lo sfogo è più, come dire, più, più forte chiaramente, perché quello che si può dire nei video non è magari sempre tutto, tutto quello che si vorrebbe dire, però nella nostra piccola grande community come dico io, con alcune persone si è creato anche un bel rapporto che ci sentiamo e so che molti di voi sono affini al mio pensiero e mi fa piacere, mi piace portare sul canale un po' tutto quello che contraddistingue la mia persona e quindi non è solo il beauty, il makeup, la beauty recensione, mi piace ogni tanto, come dire, dare uno spaccato di realtà, uno spaccato di realtà su youtube, su instagram, avete visto che nell'ultimo periodo comunque su instagram, un po' sono onesta, un po' per mancanza anche di ispirazione, un po' perché comunque lavoro, lavoro, allenamento, difficoltà nella gestione anche delle piccole cose, perché ripeto non tutte le settimane sono uguali, purtroppo per fortuna, perché a volte ci sono anche aspetti positivi per carità, però insomma mi piace dare questo spaccato di verità perché le vite patinate non le ha nessuno o chi millanta una vita patinata magari chiuso lo schermo ha comunque una realtà totalmente opposta e francamente sui miei canali social mi piace l'idea di dare questo spaccato di realtà che è la realtà, perché io effettivamente sono questa, io non ho fronzoli, nel senso che comunque se io ho le scatole girate, per non dire una parolaccia, si vede, ci sono stati anche dei video dove ne abbiamo abbondantemente parlato, qualcuna di voi mi aveva anche chiesto come fai a gestirle, come fai, cioè il fatto anche di sembrerà una stupidata, però anche il fatto di parlare, di condividere dei contenuti diversi, variegati, variegati, sì diversi, ti dà modo comunque se vogliamo di buttare fuori, no? E poi certo il fatto del diario, c'è stata una fase 2022-2023 all'inizio, che scrivevo di più, poi varie questioni, non mi sono più riassestata sul diario, nell'ultimo periodo l'ho ripreso, diciamo che mi piacerebbe inserire una routine di questo tipo, non dico tutti i giorni, perché non so se riuscirei a farlo, ma perlomeno un giorno alla settimana prendere il diario e scrivere, perché c'è qualche ragazza che seguo, che so che lo fa, che la seguo con interesse e francamente credo che su di me, che sono una persona molto schematica, molto per punti, molto per schemi, il fatto di avere delle procedure da seguire in ogni cosa, dagli obblighi al divertimento eccetera, cioè a me non piace andare un po', concedetemi il termine, alla spera in dio, io ho bisogno di avere dei passaggi da seguire, questo in tutto, non so se è una cosa positiva o una cosa negativa, sta di fatto che è una caratteristica di quella che è la mia persona, vuoi per sicurezza, vuoi perché è come se io delineassi la mia zona di comfort, io so che cosa devo fare, quindi la mia to-do list è l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, dal lavoro alla casa, all'allenamento, ai divertimenti, agli hobby, ai momenti di svago, un po' a tutto, lo so che può essere da un lato limitante, però allo stesso tempo trovo che sia un aspetto, se vogliamo, estremamente positivo per la mia mente, quindi ben venga, perché ritengo che se alla fine una persona sta bene in determinate procedure da seguire, spero di essermi fatta capire, è così che va, che deve fare, ecco, perché se alla fine, se non stiamo bene noi stessi, non stiamo bene da nessuna parte e con nessun altro, le difficoltà ci sono, ma bisogna, se vogliamo, dobbiamo imparare a gestirle, non è sempre semplice, non sto dicendo quello e sono io la prima, però se riusciamo a trovare degli escamottage o comunque dei modi di fare che ci aiutano, ben venga. Nulla ragazzuole mie belle e ragazzuoli miei belli, io sto ciaccolando da 18 minuti e 50, vi ringrazio perché mi avete un po' disteso i pensieri, ripeto, nebbiosi di questo giovedì mattina lavorativo, io ho dieci minuti, magari entro così, vedo se il cliente è già operativo, che se cominciamo qualche minuto prima, finiamo il rinnovo qualche minuto prima e spero che queste chiacchiere in macchina, tra l'altro il fatto che ci siano dei luoghi completamente in comfort zone, la macchina è uno di quelli, è come se io in macchina, che non c'è nessuno, come si può vedere, se non la mia borsa qui di lato, è come se io ho questa cosa che ci sono dei luoghi dove io comunque sto bene, mi sento, è come se fosse un oasi di pascio, la macchina, la postazione al lavoro, vi ho condiviso un post su Instagram che mi è piaciucchiato, ma forse credo che sia più piaciucchiato anche per il messaggio al di là di me alla scrivania in ufficio, ho proprio dei luoghi dove amo stare da sola, riflettere, fare, disfare, video, insomma varie cose, al lavoro, in ufficio ovviamente fare le cose del lavoro, però è come se in alcuni frangenti, in alcune zone si ricaricassero un po' le batterie nel silenzio senza nessuno che ti assale di pensieri, di parole, di cose da fare e quindi questo è sicuramente un altro aspetto che mi piace molto. Fatemi sapere voi come vivete questa questione delle comfort zone, delle cose da fare, se anche voi avete delle zone che in determinati momenti magari di... è una settimana che dico surplus mentale, di troppe cose mentali, non so neanche se è corretto dire surplus mentale e magari ci sono appunto delle zone, dei luoghi dove in maniera molto semplice non è che sono le Maldive, però sembra un po' un'oasi di pace che ti dà modo di osservarti, di stare da sola con te stessa, senza nessuno intorno, fidanzato, marito, padre, madre, zio, cugino, cugina, cioè proprio da sola. Io ho a volte queste necessità, sono onesta, quasi viscerali e che ti danno nuove spinte e poi domani sarà sempre un altro giorno e si vedrà. Nulla, spero che questo ciaccolamento generale, riflessivo, make up pose, esistenziale, insomma vi sia piaciuto, non so come avrò chiamato questo video, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram dove mi trovate come C4Kate e noi ci vediamo alla prossima, anche TikTok mi raccomando e guardate l'info box. Ciao!